Prefetto, eccoci nel nuovo posto di polizia del pronto soccorso Villascasse di Gionna San Pier d'Arena. Insomma, tanto lavoro, tanti incontri, un tavolo proprio per arrivare a questo che era molto sentito sia dalla popolazione ma anche dagli operatori sanitari. Beh, certamente questo è in termini assoluti di accesso il secondo ospedale della città. Quindi dopo San Martino e il Galliera era necessario che si aprisse anche qui un posto di polizia con l'occasione della ristrutturazione di tutta quest'ala che la ASL stava facendo. E' un segnale importante, è il riconoscimento di un lavoro importante che fanno le forze di polizia che si alterneranno qui ma è anche una risposta, seppur sempre e solo parziale, a un bisogno di sicurezza che le categorie ospedaliere, degli operatori ospedalieri hanno lamentato ed è effettivamente una necessità. Ora dobbiamo continuare a lavorare non solo su Villascasse ma anche sulle altre strutture ospedaliere perché pur se non magari per numero di accessi è giustificata una presenza di un posto di polizia però dovremmo valutare misure equivalenti che diano questa stessa operatività che hanno gli ospedali con la presenza di un posto di polizia fisso. In valutazione è anche l'orario notturno? L'orario notturno noi dobbiamo sempre non dimenticare che i posti di polizia svolgono principalmente e fondamentalmente un'attività di polizia giudiziaria quindi non sono qui a vigilanza della struttura, la vigilanza della struttura è un onere che spetta al datore di lavoro e al proprietario della struttura quindi dobbiamo lavorare con le aziende sanitarie perché le fasce orarie nelle quali non c'è questo tipo di attività e che comunque vengono coperte con la normale attività dei commissariati e del controllo del territorio vengano magari assicurati i livelli di sicurezza del personale, dei lavoratori con altre forme come per esempio la vigilanza privata.